Con un fitto calendario di concerti, visite guidate e spettacoli ha preso il via Napoli Città Natale, il cartellone delle iniziative che il Comune propone a napoletani e turisti per le festività natalizie. Fino all'11 gennaio le strade di ciascuna municipalità saranno animate da concerti, artisti di strada e guaratelle. Si potranno inoltre visitare luoghi d'arte e musei che saranno eccezionalmente aperti la domenica mattina insieme al maschio angioino e alle chiese del circuito museo aperto. Nelle sale museali, nei teatri e soprattutto nelle chiese del centro e delle periferie saranno anche ambientati suggestivi concerti d'organo di musica gospel e della tradizione napoletana. Alla Napoli angioina sono dedicati i numerosi appuntamenti delle visite guidate e dei reading che si snodano attraverso sei itinerari tematici. Tre grandi mostre segneranno infine questo Natale. Al Pan, Obey, con le opere dell'esponente della street art americana Shepard Ferry, Il Bello e il Vero, un'esposizione sulla scultura napoletana del secondo ottocento e del primo novecento nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore e nel museo del tesoro di San Gennaro, ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina. Alle mostre si accompagneranno esposizioni d'arte e presepiali negli altri musei cittadini e nelle chiese. Grazie. 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 Grazie.